E' bella a tutti ragazzi, sono Stable e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Oggi mi è venuta un'idea Visto che non c'era abbastanza spazio per mettere tutte le ceste in casa Direi di fare una cosa io ragazzi Direi di fare il cosiddetto magazzino Inizierei a lanciare le tn-telle Per distribuire un po' E per farmi un po' di zona, capito? Cosa voglio dire ragazzotti? Intanto facciamo così Intanto prendiamo Noi ci vediamo dopo che cerco di ultimare l'entrata nel magazzino A dopo Raga Questo è il tettuccio e l'inizio della nostra cosa Secondo voi ragazzi sta a sapermi Che dovrebbe stare molto bene Sto un po' iniziano a decorarla Un po' bene così Poi ci mettiamo questo qua, questo qua Questo qua, questo qua E vabbè Così E poi facciamo così E così, così Raga poi scrivete nei commenti Se vi piace questa costruzione Prima questo Così E così Tipo un'entrata Così, capito? Secondo me ci starebbe molto bene ragazzi Se vi piace Cioè A dopo Raga Appena fatto Ho decorato un po' L'intera L'intera cosa E tu entri Lo decorato pure qua Tu entri Vai giù 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 E qua Ora inizieremo A fare L'entrata Per Quello che è Il nostro magazzino Molto Molto scolento E qua ci saranno tipo Le due porte E le due entrate Capito? Raga Ah dopo Raga Sto prendendo Tutte L'essenziale Per costruire Sta roba Ora Sono andato a prendere Dei secchi Lava per cuocere Tutti i ciotoli Che ho preso Tanto ragazzi Sto schinnando Con lo OG G502 Cambiare cose E andiamo Raga Ora vi faccio vedere Come lo sto facendo Insomma è molto figo Vi faccio vedere subito Arrivo Raga Intanto sto allargando Il magazzino Tantissimissimo Così ci potrebbero Stare Ci potranno stare Più cose possibili Per il nostro La nostra vanilla Fantasticissima Raga Sta venendo Un po' Ovviamente Io Qua L'alzerei ancora Di uno Ma vi faccio vedere Che la mia idea Sarebbe di quella Di fare Così Aspettate Una roba Del genere Che poi Aspettate Fa così E poi No Aspettate Sbagliato Io Scusate ragazzi Ho sbagliato Poi Miniamo 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 Vai Tac 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 Poi Ci sarà Un'interlinea Di due Che ogni volta Farà questo Sempre questo giro Però qua Ci saranno Ora vi farò vedere Le ceste Ovviamente da due Quindi faccio Due 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 Capito? Per ogni settore Capito ragazzi? Questa idea Mi Quella che Secondo me Ci sta di più Tra queste Che c'ho Io ora In testa Regà Io faccio un altro taglio E' dopo Regà Ora Sto dividendo Tutte le sezioni Ovviamente Intanto Mi servono Alcune Risorse Guardate Ragazzi Che farm Che farm Vado Sul Dormire Quanti ragni Ci sono Sono pure Arachnofobico Nell'iterale Molto Molto Arachnofobico Intanto Lì E' quello Che abbiamo fatto La scorsa Episodio Molto Molto Figo Quello Degli Enchanting La casa Comunque Raga L'hanno fatta Molto Molto Bene Molto Molto Bene Quest'episodio Raga Speriamo Che sta Viene Bene Intanto Vado a Prendere Altre Cosi Qua Di abete E a dopo Ragazzi Regà Il bello Di Di questo Qua Che avremo Il magazzino Però il brutto E prende tutte Queste risorse Che sto Prendendo E ci metto Veramente Un sacco Di tempo Vedete Molti tagli Ma passano Veramente Molti Molti Minuti Infatti Vedete In basso A destra Quanti Minuti Barra Ore Passano Per fare Un video O per Realizzare Qualcosa Quindi Ci sta A dopo Regà Le risorse Fino adesso Sono queste Una stack E 12 11 Non l'ho visto Bene E andiamo A fare Tutto Questo Pavimento Tac Poi ovviamente Regà Il pavimento Non lo voglio Così Però Poi Giusto Per farci Un'idea Un'ideina Ecco qua Ecco qua Eccola qua Eccola Ci vediamo qualcosa Ci vedete Per qualcosa Perché Ovviamente Voi ragazzi Non ci vedete Nulla Questo Questa Questo magazzino Ragazzi Non lo finiremo Ora Perché è veramente Invisibile Infatti Infatti mi sta rotto Ora il piccone Mannaccia L'ho morto De magnoni Mettiamolo Questo Qua Ok Così Poi io direi Di fare Pure questo Così Così Per Unire Tutte Le cose In quercia E fare Più Elegante No ragazzi Che dite Secondo me ci spacca Un botto Questo episodio Raga E costruire L'immenso Perché mi piace Veramente tanto Costruire Minecraft Però Non mi piace Prendere risorse Quindi Tipo Dei fare Per avere Capito Ragazzi Il concetto Secondo me ci sta Veramente tanto Tanto Facciamo questa Striscetta Qui E quest'altra Così Così Sto giocando già Da un paio di oretta Minecraft Raga Per farvi vedere Come prendersi Qui e fare Ma Fare Cose E varie Ok Io direi Di espandere Gli altri Io ho paura Di uscire Dalla collina Che poi Non giù Siamo più Andare Ok Scusate Ci sta Veramente Tanto Il concetto Di magazzino Così Così Tu vai Sottoterra C'è le tue cose Cavole Maz Vai lì Vai lì Vai lì Vai lì Vai lì E vai lì Ok No Sbagliate Ok Ok Ci sta Ci sta Poi Poi mettiamo Due blocchetti Mettiamo Questo 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 Episodio Raga Verrà Veramente Corto Per voi Ma lungo Per me Lunghissimo Troppo Lunghissimo Ok 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 Raga Noi ci becchiamo Dopo Raga Sto veramente Spendendo un voto Risorse Per questo video Eccoci ragazzi Ora vi farò vedere Una piccola chicca Prima che finiamo Io vorrei mettere Questi secchi Così E Così Sette Ma vi faccio Vede io Eh Questi secchi Così Mica È vero Raga Va a fuego Proviamo Avemo fatto Una strunzetta Forse Dobbiamo Scavare Ancora Aspettate Mi faccio Adopo ragazzi Vengo subito Raga Secondo me Ci sta Veramente Molto Raga Spero che il video Vi sia piaciuto Vi scalco Nelle commentate Se avete presente Tutto Ciao